Falsi contratti, offerte inesistenti e operatori che fingono di lavorare per grandi aziende. Capitano sempre più di frequente le truffe, in particolare ai danni delle fasce più deboli, come gli anziani, o magari verso persone meno esperte, che si fanno convincere sulle finte occasioni. Occasioni che invece portano disagio e spesso una perdita di denaro. C'è addirittura chi, senza scrupoli, è disposto ad inventarsi incidenti in cui sarebbero coinvolti i parenti della loro vittima, così come è successo ad una signora croata di 93 anni, residente a Fano. A raccontarci quanto è accaduto è il figlio, Sergio Schiaroli, ex presidente provinciale di Feder Consumatori. Sergio, sua madre è ancora fortemente scioccata, ci racconterà lei di quanto è accaduto? Che cosa è successo? Questa mattina mia madre ha avuto una telefonata da uno che si è passato per un avvocato, dicendo che a suo figlio era scaduta l'assicurazione. Mia madre ha detto perché non chiama mio figlio. Dopo pochi minuti ha ricevuto un'altra telefonata in cui le veniva detto che suo figlio aveva avuto un incidente e che se si voleva risolvere la questione senza coinvolgere l'assicurazione, lei avrebbe dovuto pagare 3.500 euro, oppure se non aveva in casa questi soldi, sarebbe passato un avvocato per prendere una caparra con dei gioielli, ci bastava anche una collana. Mia madre ha chiesto anche di poter parlare con suo figlio, pensando che fosse poi mio fratello. E questo gli ha detto, dice, no guardi, suo figlio è di sopra dolorante al piano superiore, con il maresciallo di polizia, io sono qui di sotto, quindi passerà l'avvocato e lei gli dì almeno qualche gioiello. Mia mamma ha chiuso, ha chiamato me, tra l'altro io mi sono subito preoccupato perché la prima cosa che ha detto mia mamma, mi ha detto, dice, guarda tuo fratello, pensando che fosse appunto mio fratello, ha avuto un incidente, io mi sono subito preoccupato e lei poi mi ha detto, dice, mi han chiesto anche 3.500 euro dei gioielli, io ho detto, mamma, tranquilla, questa è una trauffa perché io come federconsumatori ne ho viste tantissimi di questo tipo e sono corso da lei, l'ho tranquillizzata, ho chiamato mio fratello che naturalmente era a casa, poi ho informato anche il commissariato di Fano perché credo che sia nostro dovere sempre informare gli organi di polizia. Proprio poche settimane fa lei è stato testimone anche di un'altra truffa? Sì, c'è un altro sistema che adottano è quello di farsi passare per dei vecchi amici, attaccano dicendo, ma non ti ricordi di me? Poi attraverso una serie di domande indirette riescono a capire delle informazioni e poi o compiono dei furti o addirittura si fanno dare dei soldi, come poi ho saputo da alcune persone anche, voglio dire, non ingenue, che hanno dato dei soldi pensando che questi fossero degli amici. Quindi raccomando, attenzione, prima di tutto non aprire a nessuno e chiamare sempre dei vicini o dei parenti se si ricevono dei telefonati di questo tipo o se suonano il campanello delle persone che affermano queste cose.